survival anmo cam è un brevetto americano costruito interamente negli stati uniti è un solido recipiente in polimero nero molto molto resistente perché cosa serve serve per occultare materiali che noi dobbiamo nascondere qualora voi volessimo proteggerci da eventuali furti possiamo mettere questo contenitore dentro un vaso di terra o addirittura seppellirlo in giardino o lasciarlo leggermente seppellito poiché è studiato per svolgere questa funzione al suo interno è interamente evacuo è un contenitore vero e proprio poi abbiamo dei sacchi in dotazione di nylon dove possiamo mettere soldi in contanti carte di credito blocchetti degli assegni documenti libretti postali libretti di deposito armi di vario genere purché possano essere inserite nel contenitore lo chiudiamo con delle apposite fascette che abbiamo mettiamo il tutto dentro mettiamo il primo coperchio e lo invitiamo con queste viti in acciaio inox al suo interno metteremo due sacchettini di questi che sono sali essiccanti dopo averli tolti dalle sue confezioni lo invitiamo e sopra mettiamo questo coperchio molto ben fatto che simula un irrigatore da giardini questo viene messo solo a pressione come copertura come coperchio quindi